In una prossima vita. Quando ero giovane fui coinvolto nell'aborto di una ragazza che non volevo sposare. Secondo quanto avete detto in una prossima vita avrò un figlio handicappato? Commento. Questo accade in genere quando la creatura abortisce o fa abortire con un'intenzione molto egoistica. Quando odia la creatura che deve nascere tu la odiavi?